E' un grande grande faggiorno. Buonasera, non è facile poter me parlare ora con il tuo Pietro. Perché io conosco quel libro, però la prima volta che vi ho presentato, perché ogni volta che Pietro racconta la storia dei suoi fratelli è un uomo. Pertanto adesso è difficile. Io volevo dire due parole sull'Italia. Quando Mario Mazzoni era, che ricordo con affetto, era direttore della ministra d'arte Pegasus, mi lasciava sempre una pagina o due a un'uscita. Io scrivevo un articolo sempre su una donna, su donne che avevano lottato in ambito culturale e sociale. E quindi non poteva mancare anche Rita, Rita Adria. Questa ragazzina che è coraggiosissima. Rita era nata a partà in Sicilia nel 1984. Era nata, cresciuta e nessuna, era una famiglia mafiosa. E una mattina, con un coraggio straordinario, ottenendo anche l'età, aveva 17 anni, una mattina, anziché andare a scuola, Rita si rivolse alle autorità competenti e denunciò, fatti e disfatti, delle cose che mafiosi, fesce i nomi e sapendo che la famiglia la rilegò, addirittura la madre farò anche una tomba. E quindi questa ragazza, insomma, così giovane, aveva questo coraggio. Paolo Bozzellino, il giudice Bozzellino, che all'epoca aveva tre figli, a vicino a dell'età di Rita, per un periodo la venne anche in casa. e dopo trovò una sistemazione a Roma, in un appartamento dove viveva rifugiata. Poi, nel 1992, quando c'è fu un attentato a maggio di Capascio, che è Falcone, dopo due mesi, Bozzellino. Se rinza, siccome Paolo Bozzellino, non era stato un padre, era l'unica persona di riferimento, l'unica che poteva aiutarla e difenderla. «Morto Bozzellino, lei capì che cosa mostra?» Cioè, che ci sarebbe stata la vendetta di un'altra mostra. E dopo sette giorni esalti dalla morte di Paolo, Paolo morì il 19 di luglio, risa il 26 di luglio, si c'è troppo alla finestra del settimo piano dell'appartamento dove l'aveva sistemata Bozzellino. E questo è un pensiero per Rita. Erano pochi i tuoi anni, ma in mezzo il tuo coraggio, piccola, grande Rita. Circondati dal buio, nascevano i tuoi giorni, eppure, indomita, sognami la luce. Per un mondo più onesto, senza soffrusi le ingiustizie, contro tutti hai lottato. Ma tutti ti hanno abbandonata, perfino tua madre ti ha rinnegata. Soltanto Paolo, accanto a te, grande albero ad alti ripari, Soltanto Paolo, unica tua forza, unica tua speranza. Ma solo un istante bastò per farlo crollare. Le tenebre precipitarono così sul luminoso sole di Sicilia. Anche il tuo cielo divenne guto e buio. Piccola, grande Rita, la luce cercasti allora nel tuo celeste volo d'angelo. Grazie. Applausi. 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 Grazie.